Ben ritrovati nel mio canale con un nuovo appuntamento. Il protagonista di oggi è questo gomitolone molto bello, molto particolare della Mondial, il Norwell Merino Fine. Sono gomitoli da 100 grammi e il filo è lungo 245 metri. Sono gomitoli molto morbidi e i colori sono veramente stupendi. Io ho preferito prendere il colore molto più neutro perché voglio iniziare l'autunno con colori neutri. Per quanto riguarda la composizione 50% lana merino e 50% microfibra ed è superwash. Sono dei filati molto particolari. Sul sito di gomitolo.com potete trovare altri tipi di colore e questi gomitoli richiamano la lavorazione norvegese. Quindi è un filato che non ha bisogno di punti o tecniche particolari. Basta fare un punto semplice e vi viene una bella lavorazione. L'uncinetto consigliato è del 3 e del 4. Io lo lavorerò con l'uncinetto del 3 e mezzo. Detto ciò possiamo iniziare. Come avete visto nell'anteprima iniziale oggi realizzeremo un maglioncino top down rotondo. Quindi avremo uno sprone rotondo. Per quanto riguarda la lavorazione multiplo di 5. Dobbiamo prendere la nostra circonferenza della testa. Nel mio caso con l'uncinetto del 3 e mezzo e questo filato ho avviato 95 catenelle che corrispondono a 54-55 cm. Però allargando arriva fino a 60. Quindi rendetevi conto. Lavorando lo sprone rotondo non dobbiamo fare come facciamo lo sprone quadrato rettangolare che abbiamo gli angoli dove andremo a inserire gli aumenti. Ma lo dobbiamo dobbiamo inserire gli aumenti per tutta la lavorazione. Nel mio caso ho avviato 95 catenelle. Vado a chiudere in cerchio quindi tenete presente la vostra circonferenza e avviate le maglie. Vado a chiudere in cerchio e lavoro il primo giro senza fare aumenti. Quindi vado a lavorare un totale di 95 maglie alte. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. vado a fianco, una seconda maglia alta. A fianco, maglia alta. E proseguo questa lavorazione fino a terminare il giro. Dal giro successivo vado ad inserire gli aumenti. Terminato il giro vado nella prima maglia alta e chiudo con una maglia bassissima. Vado a lavorare 4 maglie alte e nella quinta maglia alta vado a inserire un aumento che consiste nel lavorare 2 maglie alte nella stessa maglia di base. Ecco perché multiplo di 5. Perché lavoriamo 4 maglie alte e sulla quinta un aumento. 4 maglie alte è un aumento. Per sapere quanti aumenti dobbiamo inserire basta fare nel mio caso 95 diviso 5. Perché multiplo di 5. È un totale di 19 aumenti. Quindi devo inserire un totale di 19 aumenti. Se invece voi avete cambiato filato, avete cambiato uncinetto e avete inserito 75 o 85 catenello, catenello oppure 80, basta fare 80 diviso 5 e il risultato che vi viene è il numero degli aumenti che dovete inserire in ogni giro. Quindi ve lo faccio vedere. Mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Questa è la prima. Vado a fianco una seconda maglia alta. A fianco una terza maglia alta. A fianco quarta. E adesso sulla quinta maglia alta vado ad inserire l'aumento. Due maglie alte nella maglia di base. Uno e due. A fianco una maglia alta. 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 E sulla quinta maglia alta lavoro l'aumento. Quindi proseguo in questo modo fino a terminare il giro. A fianco uno. A fianco due. A fianco tre. Quattro. E sulla quinta ne lavoriamo due. Uno. Rientro due. Andate avanti in questo modo e ci vediamo al termine del giro. Sono arrivata al termine del giro e devo lavorare sull'ultima maglia alta un aumento. Quindi significa che ho rispettato bene la sequenza. Per cui ho iniziato con una maglia alta e poi termino con l'aumento. Ho lavorato sempre quattro maglie alte e sulla quinta maglia alta ho lavorato l'aumento. Quindi mi ritrovo con 19 aumenti. Vado a lavorare il secondo giro di aumenti. A questo punto dobbiamo inserire una maglia alta in più. Nel senso che se nel giro precedente abbiamo lavorato quattro maglie alte e un aumento, adesso dobbiamo lavorare cinque maglie alte e un aumento. Però gli aumenti sono sempre 19. Non cambia il numero degli aumenti perché noi stiamo seguendo sempre quella sequenza. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e lavoro la prima maglia alta. Uno, vado a fianco due, a fianco tre, a fianco la quinta maglia alta. Sulla sesta vado a lavorare l'aumento, nel senso che in una maglia alta ne lavoro due. Uno e due. Cinque maglie alte. Uno, due, tre, quattro e cinque. Sulla sesta maglia alta vado a lavorare l'aumento. Due maglie alte nella stessa maglia di base. Uno e due. E come vedete vi rendete conto perché l'aumento che abbiamo sotto è come una v. Quindi una maglia alta la lavoriamo sulla prima maglia alta e l'aumento sulla seconda maglia alta. Quindi non vi potete sbagliare. Lavoro di nuovo. Sei maglie alte. Uno, due, tre, quattro, e cinque. Nella sesta lavoro l'aumento. E proseguo questo per tutto il giro. Derivata al termine del giro e sull'ultima maglia alta lavoro sempre l'aumento. Quindi anche questo giro ho seguito bene la sequenza. E chiudo nella maglia alta a fianco con una maglia bassissima. Adesso la lavorazione va avanti in questo modo. Il giro numero due abbiamo lavorato nel giro degli aumenti, cioè il giro due, abbiamo lavorato quattro maglie alte e un aumento. Quindi sulla quinta maglia alta abbiamo lavorato l'aumento. Il giro numero tre abbiamo lavorato cinque maglie alte e sulla sesta l'aumento. Adesso dobbiamo lavorare sei maglie alte sulla settima maglia alta l'aumento. Il giro successivo dobbiamo lavorare sette maglie alte sull'ottava l'aumento. Quindi ogni giro dobbiamo aumentare sempre di una maglia alta. Gli aumenti rimangono sempre quelli. Quindi mi alzo sempre con una catenella e rientro nella maglia alta sottostante. Lavoro la prima maglia alta. Vado a fianco Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. A fianco una terza maglia alta. A fianco quarta. Quinta maglia alta. Sesta maglia alta. Sulla settima facciamo l'aumento. Qui si vede il V dell'aumento sottostante e sull'ultima ne lavoriamo due. Uno e due. Di nuovo sei maglie alte e un aumento. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Sulla settima l'aumento. E proseguiamo in questo modo fino a terminare il giro. Se casomai vi rendete conto nell'andare avanti con la lavorazione, che avete inserito molti aumenti e il bordo ondeggia un po', lavorate qualche giro di assestamento. Nel senso che invece di fare l'aumento, lavorate le maglie alte sulle maglie alte per non fare ondulare un po'. Quindi dobbiamo seguire questa lavorazione fino ad arrivare allo scalfo e alle nostre circonferenze. Ecco questo il mio sprone. Sono andata avanti con gli aumenti, però poi mi sono resa conto che a un certo punto avevo inserito molti aumenti. Quindi ho lavorato due giri, come vedete qua, senza fare nessun aumento. Quindi ho iniziato con 95 maglie alte. Il giro successivo ho lavorato 19 aumenti, quindi facendo 95 più 19 mi ritrovo al giro numero 2 con 144 aumenti. Poi ho lavorato il giro numero 2, numero 3, inserendo sempre 19 aumenti. Quindi nel contare basta fare 114 più 19 e mi ritrovo al giro numero 3 con 133 maglie alte. E sono andata avanti in questo modo. Qui poi mi ritrovo con un totale di 171 maglie alte. Quindi al giro numero 6 ho 171 maglie alte. Ho ripetuto il 6 e il 7 con 171 maglie alte. Non ho aumentato per far appiattire il mio sprone. Poi ho iniziato di nuovo ad aumentare fino ad arrivare a un totale di 247 maglie alte. Quindi se voi fate come ho fatto io, conto ogni giri dal numero che siete partiti, più gli aumenti che avete messo, vi ritrovate senza contare ad una ad una le maglie, già sapete quante maglie alte avete. Questo perché poi per dividere la nostra maglia. Io mi sono fermata a 247 maglie alte. Quindi l'ultimo giro di aumenti è stato l'undicesimo giro. Per quanto riguarda le misure ho uno scollo di 20 cm e uno scalfo di 18 cm. Quindi se voi volete aumentare, a voi non viene molto ondulato lo sprone, potete continuare con gli aumenti. Se invece avete un seno più abbondante e volete andare avanti con gli aumenti, basta fare qualche giri in più. Poi ve lo misurate e vedete se siete arrivati alle vostre larghezze. Io sono arrivata. Una volta fatto questo, adesso ho messo già i segnapunti per il davanti e il dietro. Una volta poi che avete piegato il vostro sprone, trovate la larghezza delle maniche. Siccome io sono arrivata alle mie circonferenze, se a voi, se voi siete arrivata sotto lo scalfo, però mancano centimetri per poter chiudere il davanti con il dietro perché non siete arrivati alla vostra circonferenza. Quando unite il davanti con il dietro potete inserire delle catenelle in più, dipende da quanti centimetri vi mancano. Io non lo devo fare perché ho la mia circonferenza. Quindi ho piegato a metà e da questo punto, qui ho chiuso ogni giro, quindi da questo punto a questo punto ho misurato 17-18 cm. L'ho fatto sia da questa parte, dal dietro e anche dall'altra parte, quindi sempre dalla spalla, sono andata a misurare 18 cm, sia da questa parte che da questa parte. I centimetri che rimangono sono 49, quindi sono giusti per quanto riguarda il mio busto. Adesso vado ad unire il davanti con il dietro e continuo la lavorazione. Quindi per unire il sottomaniche, il davanti con il dietro, qui ho chiuso, quindi questo mi serve per fare una catenella e una maglia alta nello stesso punto e vado dall'altra parte dove ho il segno, tolgo il segno, faccio prima una maglia alta, se no perdo il segno, entro con l'uncinetto, tolgo il segno e lavoro la maglia alta e ho unito così il davanti con il dietro. E la stessa cosa devo fare dall'altra parte. Questa è l'apertura della manica, vado a lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante, fino ad arrivare dove ho l'altro segno e vi faccio rivedere come chiudere anche il sottomanica. Mi ritrovo dall'altra parte dove ho messo il segno e faccio la stessa cosa. Quindi tolgo il segno, entro nella maglia segnata e lavoro la maglia alta. Vado dall'altra parte, piego in questo modo, entro dentro dove ho messo il segno e lavoro un'altra maglia alta e questa è l'altra manica che ho chiusa. Questa è l'apertura. Se invece voi non avete raggiunto la vostra semicirconferenza del davanti o del dietro, fate la maglia alta dove ho messo il segno, aggiungete, se vi servono 4 catenelle o 5 catenelle, andate dove sta questo segno dell'altra parte che avete stabilito per la larghezza della vostra manica e lavorate la maglia alta. Nel giro successivo poi dovete lavorare le maglie alte sulle maglie alte e sulle catenelle. Io invece delle catenelle non ho bisogno, quindi faccio la maglia alta, entro qui dove ho l'altro segno, tolgo il segno e lavoro la maglia alta e continuo a lavorare le maglie alte sulle maglie alte. Lavoro in questo modo fino ad avere la mia lunghezza, però vi faccio vedere come ripartire, perché così vedete come lavorare anche su questa parte qua. Sono arrivata al termine del giro, qui ho iniziato e chiudo con una maglia bassissima. Adesso proseguo la lavorazione in tondo solo di maglie alte, quindi catenella, rientro nella maglia alta sottostante, maglia alta, vado dove ho fatto la maglia alta, qui lavoro la maglia alta, maglia alta a fianco, quindi la lavorazione non è cambiata. Lavoriamo questo fino alla nostra lunghezza e questo è il risultato del nostro sprone. Allontano un po' la telecamera così faccio vedere. Continuato la lavorazione del maglioncino, una volta che ho unito il sottomanica, sono andata avanti per un totale, misurando dal sottomanica fino a dove mi sono fermata, 25 centimetri. Dalla spalla sono un totale di 47 centimetri. Io non ho fatto aumenti perché per me la larghezza era giusta, però se voi volete una larghezza più ampia, quindi andando avanti, volete allungare un po' di più il maglioncino, potete inserire gli aumenti come abbiamo fatto sopra. Nel senso che dovete, una volta che avete unito, andate avanti con la lavorazione, vi rendete conto che volete aumentare, ricordatevi qual è stato l'ultimo giro degli aumenti. Ammettiamo, avete fatto 11 maglie alte e un aumento, quando volete inserire gli aumenti andate avanti con la sequenza, quindi fate 12 maglie alte e un aumento. Però non inserite ogni giro, fate un giro con 12 maglie alte e un aumento, lavorate due o tre giri, poi ve lo misurate, vedete, senza fare aumenti. Il giro successivo, se volete, nei giri successivi, se volete inserire altri aumenti, fate 13 maglie alte e un aumento, e andate avanti in questo modo, fino a quando non avete raggiunto la vostra larghezza. Siccome io sto lavorando un maglioncino classico, quindi questo è un maglioncino anche unisex, adesso lavorerò un bordino alla fine, questo per dare un po' di movimento e creare una piccola molla. E lavorerò delle maglie alte in rilievo avanti e una maglia alta normale. Quindi adesso ve lo faccio vedere. Quindi una volta che avete stabilito la vostra lunghezza, nel mio caso sono 47 cm totali, vado a chiudere nella maglia alta e chiudo il giro. Vado a lavorare, ho saltato una maglia alta, lavoro l'ultima maglia alta e chiudo il giro. Vado a lavorare una piccola molla e lavoro maglie alte, rilievo avanti e maglie alte normali. Faccio dei giri in questo modo, quindi mi alzo con una catenella. Filo sull'uncinetto, prendo la maglia alta, quindi con l'uncinetto entro dal dietro, prendo la maglia alta e la sposto sul davanti. Prendo il filo e lavoro la prima maglia alta in rilievo avanti. A fianco maglia alta normale. Vado a fianco, maglia alta in rilievo. Con l'uncinetto entro dal dietro, sposto la maglia alta sul davanti, prendo il filo, maglia alta in rilievo. A fianco, maglia alta normale. Quindi una sequenza molto semplice. A fianco, maglia alta in rilievo avanti. A fianco, maglia alta normale. A fianco, con l'uncinetto dal dietro, sposto la maglia alta sull'uncinetto. Prendo il filo, in rilievo avanti, a fianco normale. E vado avanti fino a terminare il giro. E poi faccio vedere il giro di partenza. Di nuovo come dobbiamo ripartire. Terminato il primo giro di maglia alta in rilievo avanti e maglia alta normali. Vado a chiudere con una maglia bassissima nella maglia alta sottostante. Entro in questo modo e chiudo. Devo continuare la lavorazione per un totale di 8 cm. Quindi voglio una molla di 8 cm. Sempre in questo modo. Lavoriamo sulle maglie alte in rilievo una maglia alta in rilievo. Quindi mi alzo con una catenella, prendo la maglia alta in rilievo avanti e lavoro la maglia alta. A fianco ho la maglia alta normale. Entro con l'uncinetto e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, prendo la maglia alta in rilievo avanti, a fianco maglia alta normale, a fianco maglia alta in rilievo, a fianco maglia alta normale e proseguo questo per 8 centimetri, quindi una volta fatto questo poi dobbiamo passare alle maniche, questo è il risultato che poi verrà, quindi fare questa molla di 8 centimetri e tagliamo il filo, ci vediamo alla fine. Ecco come si presenta la molla, ho lavorato un totale di 8 centimetri, se volete la molla più stretta potete lavorare gli ultimi giri con un uncinetto più piccolo, se avete iniziato con lavorare l'uncinetto del 3,5 potete fare con il 3 e avete un po' che stringe, io ho fatto gli ultimi 4 giri, per quanto riguarda la manica, ecco come si presenta, ho lavorato semplicemente delle maglie alte, infatti come vedete il disegno che viene fuori molto bello, molto particolare il lavoro del filato, ho lavorato un totale di 30 centimetri, non ho fatto diminuzioni perché volevo la manica larga, nel mio caso non è molto larga, è una manica di 40 centimetri, diciamo che è un po' più larga del normale. Ho lavorato solamente maglie alte senza fare diminuzioni, poi ho creato questo polsino e l'ultimo giro ho fatto un giro di diminuzioni, però ho cambiato uncinetto, invece del 3,5 ho lavorato con il 3 e ho ripreso la molla che ho fatto anche al bordino inferiore. Quindi ho lavorato invece di 8 centimetri, ho lavorato un totale di 6 centimetri per dare questo movimento. Per quanto riguarda la manica, questo è lo scalfo, parto direttamente dal sottomanica, io non faccio diminuzioni, quindi riprendo le maglie così come si presentano. Se casomai voi avete una manica più larga, uno scalfo più largo, qui sotto potete fare delle diminuzioni, oppure saltare qualche punto, però siccome stiamo lavorando una manica larga da una comodità abbastanza buona, quindi vi consiglio di non fare diminuzioni. Iniziamo a lavorare una catenella, rientro nella maglia alta sottostante, lavoro una maglia alta. Vado a riprendere le maglie alte così come si presentano, vado a fianco e lavoro un'altra maglia alta, vado a fianco, maglia alta, maglia alta, a fianco lavoro una maglia alta. Come vedete noi abbiamo le maglie già formate, quindi non dobbiamo capire dove lavorare, quindi su ogni maglia sottostante lavoriamo una maglia alta e vado avanti in questo modo fino a terminare il giro. Ho lavorato il primo giro e ho chiuso nella prima maglia alta d'inizio con una maglia bassissima, quindi iniziamo con una maglia alta e chiudiamo con una maglia bassissima. Andiamo a ripetere questi giri fino alla nostra lunghezza. Io ho fatto un totale di 30 centimetri, quindi la mia lunghezza della manica è un po' più sotto del gomito. Questo perché mi piaceva l'effetto della manica col polsino sopra al polso. Vado a iniziare con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta e ripeto questi giri fino alla lunghezza. Se volete una manica più lunga potete farlo tranquillamente. Quindi vado avanti fino a 30 centimetri e poi lavoreremo il polsino. Questa è la manica. Come vedete il polso, il polsino è bello grande, quindi io vado a fare un giro di diminuzioni per stringere un po' e cambio anche uncinetto. Dal 3. Inizio con una maglia alta senza fare la diminuzione, quindi catenella, filo sull'uncinetto, rientro e lavoro una maglia alta. Vado a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado a fianco, maglia alta chiusa a metà. E qui ho la prima diminuzione. A fianco, entro, maglia alta chiudo a metà, a fianco, maglia alta chiudo a metà. Un'altra diminuzione. Vado a fianco e faccio un'altra diminuzione. Due maglie alte chiusa a metà e poi chiudo insieme. A fianco, maglia alta chiusa a metà, maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme. Quindi proseguo in questo modo stringendo il polsino. Dopo questo giro di diminuzioni guardate come si è stretto il polsino. Adesso andando avanti con la lavorazione come è fatto il bordino inferiore del maglione, vedrete che stringe ancora un altro poco. E faccio la stessa cosa. Sempre con l'uncinetto del 3 lavoro un totale di 6 cm di maglia alta rilievo avanti e maglia alta normale. Inizio con una catenella, filo sull'uncinetto e lavoro la prima maglia alta in rilievo avanti, spostando la maglia alta sul davanti dell'uncinetto. A fianco lavoro la maglia alta normale. A fianco, maglia alta in rilievo avanti. A fianco, maglia alta normale. Cercate di avere un numero dispari per poter avere la sequenza giusta. Quindi quando lavorate, vedete se dovete fare, se dovete lasciare due maglie senza fare diminuzioni, potete farlo tranquillamente. Vado a fianco, maglia alta in rilievo avanti e proseguo questo fino alla lunghezza che vi ho detto. Se lo volete più lungo, potete farlo più, il pulsino più lungo. Una volta fatto questo, potete tagliare i fili e il nostro maglioncino è pronto. Come vedete, il filato e il colore è veramente molto bello. È particolare la lavorazione resa dal filato. Nel box informazioni vi lascio tutti i link. Grazie per avermi seguito. Se vi è piaciuto il tutorial mettete un like. Se volete commentate. È un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto. Iscrivetevi al canale e continuate a seguirmi. Ciao e grazie per la visione.